Insieme al presidente di Carisbol, il professor Gianguido Sacchi Morsiani, che ha avuto il merito di riportare a Bologna Zoran Savic con Invictus Camp, in esclusiva al CRB Club Carisbol, col contributo di Intesa San Paolo, proprio per riaccendere Basket City. Ma se fosse veramente un merito mio averlo avuto qui ne sarei lusingato, ma è un merito vostro. Io ne raccolgo volentieri l'occasione per ospitare questa iniziativa così importante e che riaccende un po' i riflettori sulla vocazione di questa città, che non dimentichiamo era Basket City, proprio quando Zoran Savic ci faceva divertire tutte le domeniche. Ecco, questa è un'occasione d'oro averla al nostro centro sportivo CRB e quindi sono io a ringraziare voi e l'occasione che mi offrite. Grazie.